Milano, con la prossima stagione televisiva tornerà sugli schermi mediaset Tussi Cuevales, condotto con successo da Maria De Filippi anche se lo show perderà una delle colonne portanti, Mara Veniet, di ritorno in Cassarai. La conduttrice è naturalmente corsa ai ripari ma sembra che, dopo l'ipotesi Cannavatciolo, ormai collaudato in tv, sarebbe sfumata anche la partecipazione di Sabrina Ferilli. Sabrina infatti sarebbe impegnata con altri progetti, Tussi Cuevales. Tornerà in onda su Canale 5 il prossimo autunno e dovrà fare a meno del giudice popolare Mara Veniet, migrata in Rai, spiega Alberto Dandolo per oggi, chi prenderà il suo posto? Era circolata l'ipotesi, poi smentita, di Antonino Cannavatciolo. Maria De Filippi lo avrebbe chiesto alla sua amica Sabrina Ferilli, 53, ma l'attrice ha dovuto declinare, ha già altri impegni.